Amici, amori, amanti, amanti, amori, amici, amici, amori, amanti, insomma possiamo girare e voltare come vogliamo la frittata ma sicuramente stasera al Teatro Traetta ci sarà tanto da correre e tanto da ridere per tutti gli equivici. Allora io vi lascio il microfono, mi spiegate che cosa succede stasera? Cosa succede questa sera? È una bella domanda a cui non posso rispondere. No, diciamo che c'è questo testo molto bello di Zeller e noi con la nostra maestria, con la nostra simpatia cerchiamo di mettere in scena questo testo. Io sono Alice, sono la moglie di Attilio Fontana, Paul, e vado a letto con lui che è il suo migliore amico. Andiamo a letto, non è che andiamo a fare una passeggiata in questo teatro bellissimo di Bitonto proprio bello, complimenti. Ecco, io sono un bugiardo compulsivo, lei è mia moglie che tradisco appunto con Alice che è una psicologa, lei però ha molti sensi di colpa. Lei è una moglie comprensiva che io amo da vent'anni e quindi è curioso vedere come si diverte quasi a vedere che io mento. Mento con tutti, con lei, con lui infatti il titolo originale di questa commedia era La Verità. Diciamo che è molto importante mantenere il rapporto di coppia per me, al di là del tradimento, al di là delle bugie e questo è fondamentale per questa commedia è che il rapporto di coppia, la storia con una persona è più importante di tutto. Quindi io ho eliminato i sensi di colpa ho eliminato il problema di dire bugie perché le dico rotta di collo e loro in qualche modo mi subiscono. Io non lo subisco chiaramente perché sono una donna molto moderna, Laurence, una donna che sta insieme a questo uomo da vent'anni, che ha capito perfettamente com'è il suo pollo, quindi sa gestirlo molto bene lo mette con le spalle al muro, si diverte... Michelle, scusami, Michelle, cosa ho detto? Mio pollo! Ah, ecco! Lui è un pollo! Lui è un pollo! Lui invece è Paul! Comunque, insomma, stavo dicendo che Laurence è una donna molto intelligente, molto determinata anche fragile, che sicuramente ama il marito, ma che dice una cosa determinante, come diceva prima Pino che tu puoi anche tradire, però devi essere capace di indiscrezione e salvaguardia nei confronti del matrimonio quindi è una donna particolarmente moderna, anzi però forse tutto sommato le nostre mamme, le nostre nonne avevano già capito tutto, che tanto sapevano che il marito le tradiva, però dicevano ok, io non vedo, non sento, non parlo, no? È un po' quello che sotto un certo profilo fa anche Laurence ma poi però c'è una chicca, una chicca finale che non può essere rivelata soltanto alla fine anche perché, vero, cioè lui va bene, è mio marito, però è lui, che dire, Paul Attilio Fontana Io invece sono un angelo, quanto sono buono in questo spettacolo, quanto sono poverino e bravo io, un angelo caduto dal cielo, perché poi anch'io ho un grande ma, come tutti e quattro i personaggi in questa verità si ride molto e secondo me la qualità di questo spettacolo è la qualità nel senso, a parte insomma la maestria di ognuno di noi quattro nelle nostre diversità anche attoriali se vuoi, è che è scritta molto bene, quindi si ride molto ma si torna a casa pensando e sentendoci un po' tutti bugiardi, a volte con bugie bianche a volte meno bianche, a volte rosse, però siamo tutti un po' dei piccoli pinocchi Buggie rosse Beh, il rosso è, diciamo, il colore della passione, quindi, capito? Ok, ok, come mai conosci queste bugie rosse? Io, io non lo so, io sono sempre innocente Forse, le dico, ma quando mento non so di che colore io lo stia facendo e quello che sicuramente è importante in questo spettacolo è una battuta che dico a mia moglie ti prometto che d'ora in poi ti mentirò meglio, ti mentirò ogni volta che servirà e lei mi dice grazie E io ti prometto di mentirti a mia volta Ecco Allora, mi dovete spiegare però, tu hai detto che l'ami da vent'anni, loro stanno insieme ma perché poi avete necessità di tradire a questo punto? Beh, quello che sta a tutti i maschi del mondo Anche le donne No, no, più il maschio che tradisce Allora, un attimo, il maschio tradisce per guardarsi allo specchio La donna tradisce perché la storia sta già terminando E questo, non dico altro Questa è la versione della donna Secondo me l'uomo è più animale È più incontrollato della donna La donna è più di testa, ama, è sentimentale Invece il maschio si fa prendere dalla passione È animalesco Devo dire che io poi sono particolarmente animale perché tradisco non soltanto mia moglie ma anche il mio migliore amico che è Paul e che è disoccupato, quindi è anche depresso quindi io tradisco mio migliore amico e mia moglie con lei e quindi sono molto colpevole in questo spettacolo Però, però, verrò punito e quindi tutti poi alla fine comunque mi vorranno bene A quel punto il tradimento è peggio per la moglie o per l'amico? Eh qua, è molto soggettivo Sì, direi che infatti secondo me ogni sera il pubblico si pone mille domande e credo che quando vengono in coppia Tanti sguardi Sì, si guardano, si confrontano Ci sono dei silenzi tombali La verità, qual è la verità? C'è una verità? Eh Per ognuno la verità può essere la propria verità, no? La verità non è mai assoluta Giusto? Tu volevi dire qualcosa? No, io non indovinello perché fin da piccolo dicevano l'uomo è più traditore ma se l'uomo tradisce con più donne sono più le donne che tradiscono o più gli uomini Ecco Ma scusami, ma tu non hai mica tradito con dieci donne contemporaneamente? Beh, se io tradisco con dieci donne dieci donne hanno tradito No, non è vero perché queste dieci donne magari sono single Eh, ci sono anche le citelle Un attimo Eh, qua Scusate, voi siete maritati Ok, attenzione che le vostre mogli possono Ma noi non facciamo niente di questo Guarda che anche tu stai per sposarti Sì, certo Ma io voglio dire, io sono Sono io in realtà Ecco, quindi Ah, ah, ah Cercasi Anzi, facciamo un appello Ah, ah, cercasi Ricordiamo Ricordiamo il regista Enrico Maria Lamanna Esatto Ragazzi, grazie Io infatti vi ho lasciato il microfono perché sapevo che l'intervista andava così stasera Sicuramente vi vediamo anche perché c'è il sold out Al traetta stasera In bocca al lupo Viva il lupo Viva il lupo E un bacio a Radio Zero Zero Grazie 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 Grazie